Facciamo un salto di 61 anni. Eh, questo è un salto di 61 anni. Taci nebri e usenti. Ma tutti quanti, vediamo il sabbuccio. Sono Zappaterra. Zappaterra era padre, Zappaterra era nonno, e Zappaterra era purino, bisnodio. Ma se vieni, vieni, le piazze di terra fatiare. Non la manca di neve, invece la tieni. Vieni che le piazze di terra che è, che le piazze. E sapete che vieni, eh? Del re nostro, per tirando secondi. Sapete qua questa zona come la chiamavano? La voca. La selva palmadina. Ma più che la selva, qua era il nostro punto. prete, pantate. Ma sai quanto siamo zappati? Quanta prete siamo cariati. Mettere sulla terra per fare l'alba. Siamo scappati tutti. Ese, alla fine, è venuta fuori tutta questa bella terra. Fati ad ora. Il re, a tutto noi che arriviamo a fare l'alba qua. C'erate una piazza di terra pure. Questo è il nostro punto, è la mia. Siamo malalazza. Quello rio nostro. S'è morto. E hanno arrivato a s'escausa carne. il suo padrone di tutto il sabato dalla mattina alla sera arriva e si coglie è roba sia e ti deve stare fuori sin se provo a parlare una scompettata e si è morto e si era un brigano si è remessa la penula e la terra io sto così infatica ma è difficile non potrei mai andare a cucinare io mi abbiò la mattina scura da casa non mi posso portare anche la mucca di pane perché se ti trovi questa scusa cane va via e porta il pane dici che stai portando ma non è un brigano e qua c'è questa terra teneva una camatta di strano io mi ci pure troppeva quando si faceva tanto mi sono tornato a parlare perché dice che questo era il rifugio del brigano e ora la sera questa volta mi vengono a piazza scura a rischio di rubare un'arma e ti vengono a riuscire alla casa a di un istante però io sto cercando di resistere questa terra me la voglio tenere io voglio raccontare una cosa che è successo signora steve affariato ma è sembrato che sono sempre uno sfriccio ma sono gerato e ci stavano con 30 uomini a tavaglia tutta armata certe facce brutte che non venivano mai io sono diventata bianca come andavo solo non solo passate mi sono guardate io non parlavo a un certo punto uno mi è perduto non ti eravete paura non ti facciamo niente voi avete paura perché pensate che siamo noi ma ci stavano chi è peggio di noi se stavano senza maggiare ma ci stavano lo tenete a capire mi dite a fare solo un servizio tu lo conosci la banca sì sì io conosci chi ti ha un palo dei guardiani sì chi gli chi gli che ti ha mangiato a scavare la carne tutti gli uomini non puoi te ne ha mangiato pure a noi direi loro gli dici che mi mandano tre presunti e cinque bagnotte di pane che devono mangiare tutte queste gente la banca come la sapete ce la chiamiamo noi è una proprietà rossa che sta qua vicino nella condensa non so che non c'è stata mai non c'è mai ma che passare ci stanno guardando oltre come hanno tutti insicchia e gli anni sta fregando i luoghi questi guardiani non è male proprio non è male la pazza di chi gli è proprio mila non c'è l'altro fa i luoghi dicevano che mi hanno detto cose cose che ci sono dalle e risulta ma detto che si è risulta e non mi sa che non è arrivata io che quello mi rappresentava cose non mi rappresentava se non c'è come una peste dicevi che che si sentono tutti ora va a terra una volta e dicevi che questa volta la terra viene 10 presunti 30 bagnotte di pane e se non me la vanno guarda quanto si è ma la terra scanna quella che ci sta insieme e non la se non è fredda qualcuno ci ha parlato io i guardiani e stavolta si avessi paura mi hanno detto però perché perché è venita ci vuolene tre persone e tre aschi carichi che portano con la roba cosa ma mi hanno detto con gente il manetto pure a me l'altro era sotto e la mia c'è il voluto mentre stiva guardando qui era sotto ma sono giurato giusteva chi mi sono erano spariti un bel armato io mi non so li dava la casa e qui io gli ho presunti la bagnotte in una volta tante ci guadagnate pure un po' poi dice che gli imprecanti sono cattivi